ciao a tutti e a tutti allora nuovo video cosa c'è nel mio bagno ovvero non ci trasferiamo in bagno ma ho portato qui quello che utilizzo quando sono in bagno per fare tutta la mia skin care hair care barra corpo tutto insomma perché siccome che non vorrei essere interrotta da nessuno quindi portate pazienza e siate clementi ma ho portato qui skin care capelli e corpo vediamo allora dal corpo cominciamo come per vidal sapete l'utilizzo quasi sempre quello di acqua di cocco e monue che non so se ve l'ho messo perché sia quasi qua sotto nelle mie scorte che poi vedete dopo questo video come un primo prodotto dopo avermi fatto la doccia se non utilizzo l'olio ovviamente l'olio allevando le dolci utilizzo questo qua nivea allora la crema corpo nutriente nivea intensivo che è molto buono 48 ore che poi sticavo e non ci credo e questo ce n'è un placone da 500 mele di prodotto poi vi dicevo come altro prodotto per il corpo quando c'è assi aspettate nel corpo utilizzo ovviamente questo qua per i piedi perché ho sentito e anzi a cosa ho capito questa crema corpo non è un non ha un bellissimo odore per il corpo ma per i piedi si è una cosa favolosa tra l'altro c'è 150 mele prodotto fa profumare i pietino come nella pazzesca ragazze è ottima questa è di poter di bottega verde si gocce di felicità vabbè diciamo stare e comunque un latte corpo con l'estratto di vaniglia body lotion è una lozione corpo praticamente che utilizzo per i piedi va benissimo me la metto solamente quando mi lavo i piedi o quando mi faccio la doccia e con questa profumo non mi fa pulsare per i piedi non so perché vabbè dettagli e questa a questa specie di non so se si vuole la vedete dal eccola vedete già a questa specie di texture come dire corposa ma non troppo e va benissimo poi cos'altro c'è tra l'altro di volta fin qua e ragazze non so se mi spiego fin qua più o meno allora ha un pao di 12 mesi anche questa andiamo al viso sì per il viso ovviamente poi andiamo anche le ascelle per il viso utilizzo questo qua alla modica cifra di 4 euro e 89 non è male per niente allora devo stare attenta agli occhi contro gli occhi perché sono brucio di una maniera pazzesca però è approvato da me perché veramente mi sento pulita fresca e senza nessun più senza nessun residuo più di trucco perché il trucco se c'è dei residui per carità non è bello quindi questa mi leva anche tutti i residui di trucco giuro almeno su di me ho constatato che è così poi su altre persone non saprei su di me è così e ce n'è fin qua vedete sono arrivata qua non so se si vedrà mai ma la verità poi quanto c'è di questo ve l'ho detto no 150 ml poi tonico come tonico utilizzo questo qui fior di magnoli eccovio cosmesi tonico viso riequilibrante con l'estratto di lo di magnoli a malva e rosa da macena questo qua il mio tonico che è top anche se non è che ne vado a nozze con questo però sì non è la gioia della mia vita non è il prodotto della vita però va benissimo perché mi toglie tutte le impurità dai più o meno siamo lì non è senso che mi toglie ma cerco di bere di più acqua di mangiare sano non sempre mi viene voglia di mangiare sano ma quelle poche volte che mangio sano mi accorgo la mia pelle mi ringrazia e sta bene anche poi allora quanto c'è di questo 150 poi sto facendo in alternativa sia allora con c'è una gamma di prodotti che utilizzano alterno a il 1000 1000 di tiglio e malva si ok questo latte detergente con quest'altro latte detergente qui oddio perché si è aperto a che chiusa nivia e 1000 le alterno tutte e due perché non si sa mai che la pelle fa reagisce in modo strano quindi l'alterno o l'uno o l'altro e mi ci trovo strappe a questo pulisce bene la faccia al mattino alla sera dipende come lo voglio utilizzare poi come struccando utilizzo questo qua sia la sera che anche al mattino quando sono struccata anche metà sporca di impurità non utilizzo queste poi vado col tonico con la crema che la crema poi ce l'ho qua vedete questa qua vedete la livea molto buona questa poi questo della visci e mi fa una pelle che non ce n'è per nessuno mi piace sono lavorate questo prodotto molto buono e questo è il mineral water booster 1089 molto buono molto buono e questo è di vetro quindi attenzione ragazze perché questo si ricade per te la splash sappiamo tutti cosa succede per capelli utilizzo allora questa questa acqua qui non brucia però se la passate negli occhi dovete stare attenta perché attente perché altrimenti non commenta cosa vi succede che bruciano gli occhi quindi ovvio che bisogna stare attente questo è un formato da 400 ml io preferisco ovviamente questo tappo rosa questo dal formato del tappo rosa perché è la mia preferita perché tra l'altra per pelli sensibili si ad alta tollerabilità ipoallergenico viso occhi e labbra senza profumo idrata e risciacqua e senza risciacquo no io risciacquo sempre ragazzi non mi fido poi per capelli capelli utilizzo questo qui che è della elvive l'oreal olio straordinario nutre balsamo nutri allora nutri nutrienti scusate con olio di fiori preziosi intensa brillantezza e morbidezza per capelli secchi anche questo un 200 ml di prodotto e mi fa un profumazione incredibile sembra di stare in pratica mi piace davvero tanto questo qua è un altro olio che utilizzo non per il corpo ma ben sì per il viso perché per il corpo cosa dice no per i capelli sì per capelli e mi fa dei capelli splendenti è vero l'olio dipende come lo si usa fa disastri ma se lo sapete districare verso i capelli le mettete un come si suol dire un cincini di prodotto va benissimo per tutto per tutta la testa per tutta la chioma bisogna quanto le mettete comunque anche questo non ci sono trovata bene se vedete che non ce n'è quasi più perché mi stra piaciuto e tutte le volte che mi lavo la testa davvero dovrei mettere un cincini ma realtà sono schietta con voi e sincera ne metto un bel po non molto ma quasi perché mi piaciuto davvero tanto fa un profumo non dico di argama di olio non so neanche come dire mi piace basta punto poi ultimo prodotto ma non per importanza queste già lo sapete perché la utilizzo per fare trattamento quando i capelli che vanno veramente non dico brutti ma non sono tanto belli da vedere che sono carta per correnta i capelli carta pesta vabbè tipo un zombie questo qui so che del deodorante preferito di eleonora mocio e io adoro questo anche io questo dorante alimentato è diventato il mio dorante preferito anche a me go fresh al cos'è questo fatemi pensare al non mi ricordo che cavolo è questo vabbè antitrasparente lo sappiamo al cocomero ora non lo vedevo perché era troppo è scritto piccolo che non si vede comunque è cocomero questo qua buonissimo e ha una formazione paradisiaca anche questo sì mi stava cadendo molto bene buono 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 niente ragazze per adesso è tutto io vi ringrazio dell'ascolto spero che abbia registrato perché se è così veramente vabbè no commenta e ciao un bacio mettete like anche se volete anticipato quando avete aperto il video e ciao